Ciao cari spettatori, benvenuti sul mio canale. Ken Yaman è mio padre? Il bell'attore della serie tv è Ken Yaman Baba. La gioia del bambino di Ken Yaman è Demetho Sdemir. Ken Yaman, l'attore della fenomenale serie da record di ATV, ha portato il suo amore al tavolo delle nozze con Demetho Sdemir, che ha iniziato sul set. Ken Yaman e Demetho Sdemir, che si sono sposati l'anno scorso, ora hanno dato la bella notizia di un bambino. Sì, cari telespettatori, sta diventando padre. Si conosce il sesso del bambino di Ken Yaman e Demetho Sdemir? Non passa giorno senza notizie di un bambino proveniente da una celebrità. La notizia del bambino del bell'attore italiano, del popolare turco Ken Yaman e di Demetho Sdemir è stata emozionante. Demetho Sdemir diventa mamma. L'amore tra il bell'attore Ken Yaman, detentore del record di rating della fenomenale serie tv, e Demetho Sdemir si è spostato al tavolo del matrimonio. Ora la buona notizia di un bambino è arrivata da Ken Yaman e Demetho Sdemir, che si sono sposati l'anno scorso. La coppia Ken Yaman e Demetho Sdemir si è sposata in un matrimonio di campagna molto chiacchierato a Bolu la scorsa estate. Ti presento le immagini amorevoli e le emozionanti condivisioni della coppia con la buona notizia del bambino. Sei il benvenuto a guardare il mio video. Grazie per aver guardato il mio video. Arrivederci nei nuovi video.